ciao ragazzi come è andata oggi benissimo ci siamo trovati benissimo dalla chiesa al pranzo fino alla fine della peste tutto perfetto tutto tutto in crescendo e come molto emozionante molto emozionante per poi passare al party dove invece è stato più divertente quindi ci sono state le tutte le varie fasi che in un matrimonio ci abbiamo fatti ballare ci hanno fatti divertire diciamo grazie a voi grazie a voi davvero grazie